Frattura del setto nasale, una ferita al sopracciglio sinistro e una prognosi di 30 giorni. Chiede giustizia a Domenico D'Assoro, 33 anni di Lucrezia, aggredito e picchiato al Lido di Fano da un gruppo di ragazzi, originari di Torre Annunziata, che il giovane conosce bene. E' accaduto nella notte fra sabato e domenica scorsi, intorno a luna, quando era in compagnia della sua fidanzata ed alcuni amici. Domenico, sei ancora molto scosso. Che cosa è successo? Allora sì, sono scosso perché comunque sabato sera, ovviamente con le nostre amici andiamo comunque in una cornetteria che costeggia la Capitaneria di Porto. Prima di entrare abbiamo incontrato il nipote della mia compagna, il quale senza un motivo gli ha messo le mani addosso. Ovviamente io sono intervenuto, sono intervenuto per calmare la situazione, ma ovviamente il nipote continuava. Domenico reagisce, lo spintona e gli grida di andarsene, ma a quel punto, secondo il suo racconto, uno di loro gli si scaglia contro e lo prende per il collo. Lui cerca di difendersi e lo getta a terra, poi arrivano gli altri quattro del branco e lo prendono a pugni. Tutti addosso a me, quattro persone addosso a me. Fortunatamente c'era il mio amico, il quale comunque si è messo da spartimuro, una cosa scioccante. A scatenare l'aggressione sarebbero stati motivi passionali. Uno di quei giovani, infatti, avrebbe avuto una relazione con la figlia ventenne della sua compagna. Nonostante tutto, Domenico ha deciso di non allertare le forze dell'ordine e di tornarsene a casa. Ma una volta arrivato al parcheggio, vicino alla pizzeria Florida, è stato circondato da una decina di persone. E prima che potesse accorgersene, è stato colpito di nuovo con un altro pugno in faccia. Il cazzotto, sferrato sopra l'occhio sinistro, gli ha procurato una grossa emorragia. Ancora oggi, nell'area di sosta, le tracce di sangue sull'asfalto. Io sono stato minacciato di morte da dieci persone. Per fortuna, il 33enne è stato soccorso dai militari dell'esercito in servizio di vicino, che dopo aver calmato gli animi, hanno chiamato i carabinieri e il 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso. Quel ragazzo ha ammesso pubblicamente davanti a un pubblico ufficiale che era stato lui a darmi il cazzotto. Le indagini delle forze dell'ordine proseguono, mentre per Domenico è stato scongiurato l'intervento chirurgico al setto nasale, ipotizzato in un primo momento. Resta la paura di ricevere nuove ritorsioni. Poteva andare a finire peggio, molto, 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 molto peggio. Io le scuse non le voglio, non voglio dire niente a queste persone, ci penserà chi di dovere e basta. Grazie. 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 Grazie.